Rieccoci di nuovo insieme, sono felicissimo oggi perché si parla di libri, sono tante le copertine che stanno giungendo al 331 737 8033 con attraverso appunto il numero whatsapp attraverso il quale ci state condividendo le vostre letture e sono altrettanto felice perché i collegamenti di oggi sono dedicati proprio al mondo dei libri e delle letture. Come preannunciavamo in questo momento siamo in collegamento con Fra Marco Gaballo, rettore del Santuario della Spogliazione di Assisi e Fra Andrea Gatto. Buongiorno Fra Marco, buongiorno Fra Andrea. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno a tutti noi, ciao. Fra Marco ti vediamo un po' tagliato per cui se puoi spostare un po' la telecamera verso l'interezza del tuo volto possiamo ecco vederti meglio. Ah ecco, io. Perfetto. E così va già meglio. Mi dobbiamo. Così va già meglio. Fra Marco come dicevamo, rettore del Santuario della Spogliazione di Assisi che è un santuario che è strettamente collegato alla vita di Carlo Acutis, il fulcro un po' di questo collegamento sul quale Barbara Baffetti con Monsignor Sorrentini e appunto proprio Fra Marco hanno scritto anche dei volumi che ci aiutano a far conoscere meglio la figura di Carlo che è uno dei giovani cattolici, giovani ragazzi cattolici che sta raggiungendo gli onori degli altari. Quest'anno, solo qualche settimana fa abbiamo ricevuto, appreso la bella notizia e l'abbiamo condivisa della sua prossima beatificazione e quindi siamo felici di poterci focalizzare sulla figura di Carlo anche attraverso queste pubblicazioni. Fra Marco, quindi ti chiederei un focus sulla figura di Carlo e quindi ti lascio subito la parola. Beh, diciamo che quello che sto più che altro scoprendo vedendo le persone che arrivano al Santuario e anche attraverso i vari viaggi che facciamo un po' anche in Europa ultimamente c'è un grande interesse, Carlo è capace di rianimare soprattutto il mondo dei giovani più lontano questo anche perché è una figura molto vicina, è un adolescente, Carlo insomma ha vissuto 15 anni come sappiamo, è morto nel 2006, è nato nel 91, quindi è una figura molto vicina ai giovani faceva una vita ecco esattamente per tanti aspetti la stessa dei nostri ragazzi quindi molto impegnato nello sport, nella scuola, nello studio, interessato alla musica, al sassofono un navigatore non solo un utente di internet ma anche un esperto nell'elaborare contenuti nuovi e creativi quindi diciamo così è una figura proprio molto vicina a noi ecco questo è uno dei segreti forse della sua popolarità Infatti ecco anche ricollegandomi all'articolo che ha scritto Fra Andrea Gatto su fratteindovino.eu Carlo Acutis viene definito il ciberneta beato dei millennials una definizione che racchiude l'essenza di Carlo un ragazzo che ha vissuto appieno il suo tempo valorizzando al massimo tutti gli strumenti a sua disposizione per vivere appieno la sua vita e la sua fede Fra Andrea a te Ecco sì, quello che fa strano di Carlo è che proprio la sua normalità ci interpella oggi più che la straordinarietà del suo eroismo il fatto che abbia così fatto uso di strumenti che oggi anche i giovani usano è con una purezza di cuore e di intenti che forse è la vera straordinarietà questo ovviamente dentro una vita fondamentalmente improntata alla sequela di Cristo Carlo è uno che si è appassionato del Vangelo così nudo e crudo e ha voluto condividerlo e spartirlo proprio dentro la sua vita, dentro il suo contesto di relazioni con i compagni, con gli amici, con la gente della strada che aveva modo di incontrare con i suoi genitori, dei quali è stato possiamo dire il primo tramite di conversione ecco la vita nuova che scopriva nel Vangelo lo faceva, dicevamo anche usando internet è stato un abile programmatore nonostante la sua giovane età e probabilmente avrebbe proseguito ancora a lungo se il Signore gli avesse dato questa occasione ma evidentemente c'erano altri progetti per lui Nel tuo articolo di cui abbiamo anche link magari vedremo appunto la pagina del sito fratindovino.eu parli di una connessione irlandese che è proprio un'espressione che dà il titolo all'articolo stesso ecco ci spieghi di cosa si tratta? Allora, la connessione irlandese è un titolo che è venuto alla nostra mente sia a me che al fratello con cui abbiamo condiviso una prima esperienza intera irlandese proprio l'anno scorso ecco da qualche ora ricorre l'anniversario del nostro primo contatto con la gente di Irlanda e in particolare con due ragazzi, Seamus e Mary Ifa questi due giovani irlandesi di una ventina d'anni fratello e sorella che abbiamo incontrato quasi provvidenzialmente nell'ambito di una serata che il loro gruppo organizzava ecco, usando la preghiera e la musica irlandese insieme allora ci siamo imbattuti in questo volantino nell'aprocattedrale di Santa Maria a Dublino e ci siamo detti con Fra Matteo questo è il nome del fratello con cui ho viaggiato perché non partecipiamo anche noi? anche per contattare un po' la gente del posto cercare di capire come i giovani anche vivono la loro fede in un'Irlanda che recentemente è stata anche, come dire, ferita da qualche scandalo legato appunto alla Chiesa e che quindi ha bisogno oggi più che mai di ritrovare la freschezza del Vangelo e allora abbiamo contattato questi due ragazzi e ci siamo ricordati che prima di noi, ben prima di noi un figlio spirituale di padre Pio, fra Alessio parente era giunto in Irlanda proprio con il nostro stesso obiettivo quello di imparare poco poco la lingua, la lingua inglese e anche lui aveva iniziato un tessere con alcune persone del luogo in particolare una signora che si chiama Eileen e che poi è stata a capo dell'ufficio e dell'associazione padre Pio di Irlanda che è appunto in connessione costante con San Giovanni Rotondo fin dagli anni 50 del secolo scorso anche a noi è sembrata questa una nuova connessione irlandese questa volta non più legata alla figura di padre Pio che comunque continua ad avere una grandissima devolzione in Irlanda quanto invece a quella di Carlo questo nuovo compagno di viaggio che sta tanto attirando i giovani irlandesi questi due ragazzi hanno anche istituito una pagina Instagram in cui condividono tutto ciò che ruota intorno alla figura di Carlo in termini di esperienze di preghiera di evangelizzazione, condivisione della sua storia oltre che proposte per i ragazzi di Dublino e di tutta l'Irlanda a partecipare a eventi caritativi oppure a esperienze di carità per strada così come faceva Carlo anche alla sua giovane età grazie fra Andrea io ritorno a fra Marco anche perché devo recuperare uno scivolone che ho fatto in apertura perché quando siamo in diretta a volte può capitare di fare qualche gaff Carlo Acutis è stato dichiarato beato il 10 ottobre 2020 da Papa Francesco alcune settimane fa in realtà ormai sono passati alcuni mesi da quel 23 maggio del 2024 lo stesso Papa Francesco ha autorizzato il dicastero delle cause dei Santi a promulgare il decreto relativo al riconoscimento di un secondo miracolo attribuito all'intercessione del beato Carlo Acutis ovviamente è un riconoscimento che spalanca le porte alla sua santificazione fra Marco dicevamo Carlo Acutis richiama tanti giovani a sé anche nel santuario della spogliazione di Assisi dove c'è il suo corpo che cosa ci dobbiamo quindi aspettare dai prossimi mesi? ci possiamo aspettare quello che già sta succedendo in realtà da diverso tempo in maniera crescente cioè che il santuario diventa un luogo sempre più di pellegrinaggio di soprattutto dei ragazzi ecco dei più giovani sia di anche bambini adolescenti ma anche giovani giovani adulti e questo chiaramente ci fa veramente ci dà molta gioia anche molta speranza io mi ricordo anche un episodio quando venne il vesco ausiliare di Milano Luca Raimondi con duemila giovani circa di Milano e lui diceva no proprio ma guardate la chiesa in crisi no guardate quanti quanti ragazzi anche quanta serietà no perché vengono veramente con uno spirito di di raccoglimento di di ricerca ecco questo è bellissimo e noi siamo molto contenti e anche come dire percepiamo la responsabilità come adulti di favorire questo tipo di connessioni ecco il caso di dire perché anche dalla mia esperienza personale molte volte la maggior parte delle volte confrontarsi con il mondo dei giovani è rigenerante perché sono ancora pieni di sogni di speranze di buona di tanta buona volontà e noi adulti dobbiamo essere in grado di canalizzare queste risorse queste energie nella direzione migliore ecco speriamo che la vita l'esempio di Carlo Acutis ispirino anche noi più grandi è un po' l'intenzione anche di queste pubblicazioni edite dalle edizioni francescane italiane libri scritti questo libro in maniera particolare una stella di nome Carlo scritto da Barbara Baffetti con un'intuizione diciamo così un'intuizione narrativa diversa dalla solita biografia fra Marco sì diciamo che ecco la figura di Carlo consente tante letture tanti approfondimenti credo che che questo sia una delle delle piste quella che ha scelto Barbara che sarà veramente molto efficace anche nella vita avrà influenze nella vita di chi lo legge ecco in maniera molto positiva a mio avviso bene allora noi invitiamo i nostri telespettatori ad arricchire le proprie letture anche con il libro una stella di nome Carlo nella foto precedente che la regia ci offriva abbiamo visto anche altri titoli ne parleremo ecco anche nei prossimi giorni di qualche altro libro che ha incentrato dedicato qualche altra figura degna di nota e io ringrazio fra Marco e fra Andrea per essere stati con noi stamattina per aver condiviso un po' del loro tempo con la speranza che ci si possa risentire anche in futuro per continuare a seguire le orme di questo straordinario ragazzo che continua ad attirare a sé a far muovere intorno a sé tanti tanti giovani tante persone per cui teneteci aggiornati su eventuali altre iniziative perché saremo felici di condividerle con il nostro pubblico grazie quindi per essere stati con noi fra Marco e fra Andrea ci auguriamo di ritrovarvi presto grazie a voi grazie dunque buon proseguimento di giornata fra Marco e fra Andrea e noi a questo punto ci fermiamo qualche istante restituisco la linea alla regia ci ritroviamo subito dopo la pubblicità ok